La seduta del 29 ottobre La crisi come opportunità Il rapporto tra giovani e denaro in tempo di crisi Mercoledì 13 novembre Matteo Vittuari interverrà su L'alimentazione e risparmio di energia Una nuova prospettiva Per terra e per mare Viaggio tra le terre di frontiera Presentato a Palazzo Lascaris il libro di Donatella Balani Docente emerita di storia moderna all'Università di Torino Per terra e per mare Viaggio tra le terre di frontiera Alla presentazione del libro Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte In collaborazione con la Fondazione Firpo E il Centro Gianni Oberto Sono intervenuti con l'autrice I docenti Dino Carpanetto Gian Savino Penevidari e Claudio Rosso Concorsi per studenti La trentesima edizione del concorso scolastico Della consulta europea È dedicato all'anniversario della prima guerra mondiale Alle elezioni del Parlamento europeo del 2014 E all'anno della conciliazione Il termine per la presentazione dei temi o dei video È il 20 gennaio 2014 Gli studenti possono partecipare Anche ai concorsi di studio Banditi dal Comitato Resistenza e Costituzione Sull'8 settembre 1943 La guerra contro i diritti civili La Shoah Scadenza 14 febbraio 2014 Oppure a quello dell'osservatorio contro l'usura Sull'uso consapevole del denaro Scadenza 18 febbraio 2014 Meridionali e resistenza Presso la Casa della Resistenza di Fondotoce Verbania È stato presentato il libro Meridionali e resistenza Il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945 La pubblicazione vuole avviare un percorso di approfondimento Sulle vicende individuali e collettive dei tanti italiani Che, provenienti dal Sud Parteciparono alla resistenza in Piemonte Dopo l'8 settembre 1943 La pubblicazione vuole avviare un percorso di corso 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 di